Noi siamo sempre molto legati a tutto quello che è Italia e nazionale e in questo caso siamo ancora di più perché questi sono atleti che hanno fatto qualcosa di più degli altri, sono ancora più campioni in quanto hanno dovuto superare difficoltà maggiori e quindi noi siamo molto orgogliosi di questo partnership come l'ha giustamente definita Pancalli tra la RAI e il Comitato.